Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video Mi avete richiesto in parecchie di parlare di questo caso e sebbene non sia ancora chiuso perché in effetti non hanno fatto alcun processo Oggi sono qui per raccontarvi il caso di Benno Noemeyer, spero di star pronunciando bene il suo cognome Un ragazzo di 30 anni che è salito alle cronaca per aver fatto una cosa terribile Probabilmente sapete già cos'è accaduto in questo caso perché è molto recente Ma me l'avete chiesto così in tanti che alla fine è come qui, oggi sono qui per parlarvi di Benno E come al solito andiamo con ordine Iniziamo partendo dalla zona in cui accade tutto Siamo a Bolzano, capoluogo dell'omonima provincia autonoma del Trentino Alto Adige Benno Noemeyer è il protagonista del nostro caso Ha 30 anni, è laureato in scienze motorie all'università di Innsbruck in Austria Fa l'insegnante di ginnastica alle scuole medie di Bolzano È un ragazzo parecchio narcisista, ama il fitness, la palestra e fa dei video su YouTube Dedicati proprio al fitness sperando di diventare prima o poi un influencer Benno quindi ha l'ossessione per i muscoli, vuole gonfiarsi e pare che per raggiungere questo fine Abusasse anche di sedi e anabussanti Queste due sostanze possono chiaramente plasmare una personalità per renderla ancora più aggressiva e violenta Nella nostra storia oltre a Benno ci sono anche Peter e Laura, i suoi genitori Che sono entrambi insegnanti ormai in pensione Lunedì 4 gennaio 2021 i coniugi Noemeyer spariscono misteriosamente La madre di Benno, Laura, viene vista rientrare verso le 18.30 a casa in via Castelronco 22 Benno la incontra, fa con lei due chiacchiere per 10-15 minuti e poi esce nuovamente di casa per le 19 lasciandola sola Ma Benno, che cosa esattamente è uscito a fare? È uscito per fare un giro in bicicletta Ma le telecamere della zona non lo riprendono mai Siamo sicuri che sia uscito davvero? Comunque, Benno torna a casa per le 20 Dopo il suo giro in bicicletta e non trova nessuno Senza pensare a dove possano essere i suoi genitori entra in bagno Si fa una doccia e alle 21 lascia nuovamente casa sua a Bolzano per raggiungere ora Il centro a sud di Bolzano dove vive una ragazza che frequenta Si chiama Martina Qui però c'è un problema, in quanto il ragazzo si avvia verso ora, solo verso le 22 Ed è passata un'ora da quando è uscito di casa Ha fatto una sosta da qualche parte? Ha provato ad occuparsi di qualche faccenda? Cosa ha fatto Benno? La situazione è parecchio strana In ogni caso, Benno si rimette in marcia per dirigersi per l'appunto dalla ragazza di ora Martina Rimane da lei dalle 22.30 fino alle 5.30 del mattino successivo Arriviamo quindi a martedì 5 gennaio Benno di conseguenza rientra a casa Ed esce di nuovo verso le 8 per portare fuori il cane Rincasando solo per le 13 Quindi tutto sommato si è fatto una bella passeggiatina sull'altopiano del Renon A quel punto riceve una chiamata da sua sorella minore Made Medico e scrittrice che vive a Monaco di Baviera La quale lo avvisa del fatto che non riesce a contattare i loro genitori Solo in quel momento Benno, convinto da sua sorella, va a fare una denuncia di scomparsa ai carabinieri E qui, a mio parere, c'è già un enorme problema in questo caso Benno abita con i suoi genitori, ma sua sorella no Possibile che sua sorella debba avvisarlo da Monaco di Baviera? Non se ne è accorto da solo che effettivamente i suoi genitori non erano presenti in casa? La cosa qui puzza E non poco A poche ore dalla denuncia, i vigili del fuoco di Bolzano mettono in moto la macchina dei soccorsi Benno riferisce tutti i suoi spostamenti E poi dice che i suoi genitori sono soliti frequentare la zona di Talvera Oppure il lago di Costa Lovara Pare addirittura che il giorno della scomparsa Avesse l'intenzione di andare a pattinare proprio in quel laghetto Ed è proprio lì che si concentrano le ricerche dei vigili del fuoco di Bolzano Mentre un team di sommozzatori perlustra in lungo e in largo il fiume di Isarco È presente anche l'elisoccorso dell'Alto Adige E l'elicottero della Guardia di Finanza Ma dei coniugi Noemeyer non c'è neanche l'ombra Nessuno sa dove siano finiti e per di più Non vi è traccia del loro passaggio nelle località indicate da Benno C'è un'evidenza però L'ultima persona ad averli visti è proprio Benno Il ragazzo finisce inevitabilmente nel mirino della procura di Bolzano In quanto la sua versione dei fatti è davvero poco, poco attendibile Le indagini proseguono coordinate dal PM Igor Secco e Federica Jovene Vengono quindi analizzate le celle telefoniche e le varie telecamere Per capire se ciò che ha messo Benno riguarda i suoi spostamenti sia vero o meno E in effetti gli inquirenti capiscono che nei suoi spostamenti c'è decisamente qualcosa che non va Ripercorriamo quindi i passi di Benno e cerchiamo di guardarli con gli occhi di chi indaga Quindi con gli occhi degli inquirenti Il ragazzo sostiene di aver visto per l'ultima volta sua madre alle 18.30 Il 4 gennaio Poi dice di essere uscito di casa per le 19 Rientra poi successivamente alle 20 e già non trova nessuno in casa Gli inquirenti a questo punto iniziano già a dubitare di questo primo passaggio In quanto Benno dice di essere uscito alle 19 Ma a quell'ora pensano che in realtà in casa fossero già tutti quanti presenti Credono che dopo le 18 Benno da casa non sia mai uscito Perché? Innanzitutto sostiene di aver fatto un bel giro in bici dalla durata di un'ora Le telecamere però non lo riprendono Non lo riprendono neanche mezza volta per sbaglio Questo ovviamente fa pensare che abbia raccontato una sonora balla Benno Ma c'è anche un altro motivo I cellulari dei genitori di Benno si spengono contemporaneamente alle 21 in punto Possibile che Benno abbia commesso un duplice omicidio? Beh, gli inquirenti iniziano a dubitare fortemente dell'innocenza del ragazzo La fascia oraria da tenere in considerazione è quella che va dalle 18 alle 21 Alle 21 in punto, a bordo della sua Volvo di famiglia Benno lascia casa sua per dirigersi verso ora Il centro a sud di Bolzano dove vive la ragazza che sta frequentando Martina Gli inquirenti sono certi che in quel momento, nel bagagliaio di quella Volvo Benno stia trasportando i suoi genitori senza vita La cella presente a Ponte Roma aggancia per l'ultima volta i cellulari della coppia Poco dopo alle 21 Benno passa da Ponte Roma Le telecamere lo inquadrano Però mezz'ora dopo, verso le 21 e 30 Anche Benno spegne il cellulare Alle 21 e 57 Benno riaccende il cellulare che aggancia la cella del Ponte Resia Le telecamere che sorvegliano gli ingressi e le uscite delle gallerie che portano da Bolzano ad ora Inquadrano Benno poco dopo le 22 che si dirige da Martina, la ragazza che sta frequentando È trascorsa un'ora da quando è uscito di casa e la domanda qui è lampante Dove diavolo è stato Benno nella mezz'ora in cui ha spento il telefono? Ebbene lui dice di essersi recato al laghetto di Oltrisarco Ha spento il telefono per ascoltare un po' di musica e si è messo a fumare Non sigarette Secondo gli inquirenti però questa sosta non è servita esattamente a Benno per rilassarsi al laghetto Bensì ha buttato nel fiume Adige il corpo dei suoi genitori presso il ponte Adige Che si trova a pochi chilometri di distanza da quel laghetto Per poi tornare verso la statale 12 in direzione di ora Inoltre c'è un altro punto di domanda perché Benno sostiene di essere rincasato per le 20 per farsi una doccia Per le 21 poi è uscito, ha fatto i suoi giri e poi si è diretto verso ora dove abita la ragazza che sta frequentando Ma la ragazza di Benno di quel periodo invece che cosa dice? Martina dice Vorrei chiarire quello che è successo la mattina del 4 gennaio Io frequentavo Benno da inizio dicembre e quella sera avevamo cenato insieme e poi lui avrebbe dormito da me Io non ho notato nulla di strano a parte che è arrivato in ritardo Appena è arrivato ci siamo abbracciati e lui mi ha detto Sai Martina, alla fine non ce l'ho proprio fatta a fare una doccia Io quindi gli ho detto ok vai a farla io preparo la tavola Poi è uscito dal bagno Abbiamo cenato e successivamente ho notato che i suoi vestiti erano per terra in bagno Così gli ho chiesto se voleva che io li lavassi Lui ha risposto sì per favore se non sono troppo spacciato Per me è stata una cosa del tutto normale quindi il giorno dopo ho lavato i nostri vestiti I suoi erano chiaramente sporchi, sì ma non avevano nessuna traccia strana Ne ho notato nessuna macchia di sangue Il 18 gennaio poi i carabinieri hanno perquisito casa mia ed io non ho consegnato i vestiti Perché avevo paura e non sapevo cosa fare In quel momento non avevo neanche un avvocato Solo dopo ho saputo che era mio diritto averne uno durante la perquisizione Il giorno dopo quindi il 19 gennaio essendo molto spaventata e confusa mi sono rivolta ad un avvocato Consigliatomi da una mia amica perché io non ne conoscevo nessuno Lui poi mi ha consigliato di portare i vestiti e di dire tutto quello che sapevo cosa che poi ho fatto Vorrei scusarmi con i carabinieri e con i ris per non aver detto subito tutta la verità Ma ero veramente molto spaventata e non sapevo che cosa fare L'ipotesi degli inquirenti in ogni caso si fa valida quando i ris di Parma confermano di aver rilevato il 10 gennaio Delle tracce di sangue sul ponte Adige che corrispondono al DNA di Peter Neumeyer Ecco perché il 19 gennaio i carabinieri effettuano una perquisizione a casa di Martina Il resto è storia nota Benno passa la nota del 4 gennaio a casa di Martina E rientra a casa sua alle 5.30 del mattino Di nuovo stranamente non nota la mancanza dei suoi genitori E di conseguenza esce col cane tranquillo per le 8 Rincasando solo alle 13 Vuol dire che questo ragazzo è stato via col cane per 5 ore Si rivolge ai carabinieri solo a seguito della chiamata della sorella Che peraltro vive a Monaco di Baviera Inutile dire che tutto ciò è parecchio sospetto Come può Benno non essersi accorto neanche una volta dell'assenza dei suoi genitori? Come può non averli visti e non essersi allarmato quantomeno un minimo per la situazione? A fronte di queste nuove evidenze le indagini cambiano immediatamente direzione Se prima si indagava su una scomparsa Ora si indaga su un duplice omicidio e occultamento di cadavere Il 19 gennaio del 2021 Benno finisce sul registro degli indagati E i militari dell'arma diretti dal tenente colonnello Alessandro Quassin Sospettano che il ragazzo abbia mentito A questo punto la macchina di famiglia e la casa di Benno vengono messe sotto sequestro I RIS fanno ulteriori rilievi trovando altro sangue Sul lato passeggero della Volvo, la macchina di famiglia Inoltre in casa vengono trovate ulteriori tracce di sangue nelle tubature I corpi dei coniugi Noimair purtroppo ancora non si trovano Ed emerge l'ipotesi che il ragazzo possa averli zavorrati Considerando che mancano dei pesi a casa sua Per di più durante una sosta presso un autolavaggio A circa una settimana dalla scomparsa di Peter e Laura Il ragazzo viene intercettato dai carabinieri Proprio a bordo della vettura di famiglia La Volvo Vengono ripertati ben due flaconi di acqua ossigenata Da quasi un litro Ovviamente vengono trovati all'interno della macchina Dovete sapere che l'acqua ossigenata Riesce in qualche modo ad eliminare le tracce matiche Che diventano anche difficili da trovare tramite il luminol Questa cosa l'ha detta Luciano Garofano durante una puntata di quarto grado Benno dice di averli acquistati in un negozio di prodotti per la pulizia Nella zona industriale di Bolzano Ma per farci cosa? La logica deduzione di chi indaga è semplice L'ha comprato per ripulire la sua macchina E la scena del crimine Il 29 gennaio Benno viene fermato Con l'ipotesi di reato per duplice omicidio e occultamento di cadavere Il giorno successivo il GIP del tribunale di Bolzano Convalida il fermo C'è il rischio di fuga e il rischio di reiterazione del reato Quindi Benno potrebbe colpire ancora Ecco che per Benno si sparancano le porte della casa circondariale di Bolzano Benno Neumeyer viene messo in isolamento E dalla sua cella continua a urlare la sua innocenza Però nel passato del giovane Emergono delle ombre non indifferenti Infatti nel luglio dello scorso anno Quindi nel luglio del 2020 Benno viveva in Germania Assieme alla sua fidanzata dell'epoca Nadine Ed è stato protagonista di una crisi acuta Rivelando problemi molto seri di carattere psichico Legati probabilmente ad una personalità paranoide E infatti Benno ha subito un TSO Ma che cosa è successo esattamente in Germania? Una sera Benno è a casa Come tutte le sere Con la sua ormai ex ragazza Nadine Dovete sapere che un giorno prima Le aveva rubato la carta di credito Per comprare degli integratori Nadine però mica è scema Si rende conto ben presto Di non avere la carta di credito nel portafoglio Dunque chieda Benno Se per caso ne sa qualcosa E quest'ultimo dice che sì In effetti ha preso la sua carta di credito Poi però è stato derubato Nadine gli risponde di evitare di raccontare balle E a quel punto il ragazzo inizia a prendersi a cazzotti da solo Si provoca degli ematomi in volto Poi afferra un coltello E dopo essersi ulteriormente ferito Lo punta alla fine verso Nadine La sua ex fidanzata Minacciandola Ovviamente Nadine dal canto suo è sconvolta Quindi la prima cosa che fa E' chiamare la polizia Che successivamente predispone Un trattamento sanitario obbligatorio per il ragazzo Benno inoltre è stato anche allontanato Da una scuola Per via delle presunte minacce Rivolte ad un collega Ed è risaputo che avesse tutto sommato Un rapporto conflittuale con i suoi genitori Specialmente con suo padre Peter L'uomo che dall'Italia è andato a riprendere suo figlio in Germania Al termine del suo TSO A ritorno in Italia Però Benno si è rifiutato categoricamente Di affrontare qualsiasi cura psichiatrica Situazione che temo Abbia portato ad aggravare ancora di più La sua salute mentale In pratica questi disagi risalgono a luglio dello scorso anno Ma i suoi disturbi non sono mai stati trattati Peter e Laura avevano accettato nuovamente Di accoglierlo in casa con loro Perché avevano capito la gravità della sua malattia Ma ripeto Benno non ha mai accettato di farsi curare Mai La madre e la sorella di Benno a quanto pare avevano paura di lui I suoi genitori si chiudevano in camera da letto di notte Portandosi dietro tutti i coltelli presenti in casa In questa situazione c'è davvero qualcosa che non va Infatti a quanto pare la madre e la sorella di Benno Cercavano di avere meno conflitti e discussioni possibili con il ragazzo Per paura di una sua reazione violenta Arriva il 6 febbraio del 2021 Quando il corpo della madre di Benno, Laura Viene ripescato dal fiume Adige in tarda mattinata Proprio all'altezza di San Floriano Subito dopo questo ritrovamento L'11 gennaio Benno confessa Ai suoi legali Di aver strangolato sia il padre che la madre Con una corda d'arrampicata Benno dice Mio padre ha iniziato a rinfacciarmi di non contribuire alla gestione anche economica della casa Mi ha paragonato a mia sorella minore Made Un medico in Germania Inoltre mi ha anche dato del fallito Mi sono sentito così alle strette E' così che la furia ha preso il sopravvento Quindi l'ho zittito Ho messo la mano in un contenitore degli attrezzi Con all'interno corde pesi Ed ho usato la prima cosa che mi è capitata in mano Una corda d'arrampicata Eravamo in corridoio Siamo caduti per terra insieme Ma non so se l'ho strozzato da dietro O da davanti Ricordo solamente che ho stretto molto forte E poi sono rimasto seduto in corridoio Poi è entrata la mamma Aveva ancora il cordino in mano E mi è venuto di fare la stessa cosa L'ho aggredita senza neppure salutarla Il 4 marzo la sorella di Benno, Made Si esprime sulla confessione di suo fratello Scrivendo una lettera E scrive questo Questa è un'ulteriore svolta Che forse faciliterà il nostro percorso In quello che fino a ieri Vedevo davanti a me Come un processo puramente indiziario Il fatto che lui abbia ucciso sangue freddo La mia mamma Il mio papà La sera del 4 gennaio Per me è stato Violentemente e dolorosamente evidente Fin dal primo pomeriggio del 5 gennaio Come stanno gli inquirenti E le persone a me più care Pensando alle prime settimane seguenti all'accaduto Stento a credere come io sia riuscita a mantenere la calma E la concentrazione nel trambusto E nel dolore più annientante Vivendo nella paura che la verità Non venisse mai alla luce Ho sentito i miei genitori vicinissimi Ogni giorno Mi hanno dato la forza di alzarmi ogni volta La mattina Mi stanno continuando a dare tutto quello Che mi hanno sempre dato nel modo più puro Ho vissuto i primi giorni Con le immagini in televisione Di un benno a braccia larghe Che si appoggiava alla balaustra Della terrazza dei miei genitori Scrutando arrogantemente in basso Verso i giornalisti e i carabinieri Poco dopo lamentandosi con me al telefono Su quanto fosse nauseato e irritato Da queste strane domande Sentendo nelle varie interviste La sua voce gelida Fabbricare spontanee teorie depistanti E palesi menzogne Non credo a un sentimento di pentimento Da parte di Benno E ci vuole ben poco a capire Che la sua confessione Resa immediatamente dopo il ritrovamento Del corpo senza vita di una Delle sue vittime Che presentava ovvi segni di violenza Fosse a quel punto un passo dovuto Al quadro indiziario a suo carico E non l'effetto di una dissoluzione di schianto Di tutte le difese di negazione e di rimozione Attuate nelle settimane successive ai fatti Negazione e rimozione mi appaiono ben poco compatibili Con l'intensa attività di mio fratello Di depistare e inquinare in maniera calcolata e lucida Le prove a suo carico Il 4 gennaio ho provato sulla mia pelle Che il bene non sempre vince sul male Che l'amore di una mamma e di un papà Non può non bastare Che le parole giuste spesso Non ci sono Che nessuna possibile condanna Potrà mai compensare quello che in poche ore Mi è stato tolto a mani nude Credo però ancora fermamente Che la verità possa e debba vincere Il mio cuore in questo momento è colmo Dell'amore che sento fortemente per i miei genitori Della gratitudine nei confronti dell'arma Degli inquirenti e dei miei legali Della vicinanza che sento per la mia famiglia Da parte di un mondo intero Del bene e della luce che riesco a vedere Nonostante tutto nella mia vita Della vita che vuole la vita Così diceva sempre mia mamma Si legge, si sente, si percepisce L'estremo dolore che Made Stia provando Lo si capisce Lo si percepisce dalle parole di questa lettera Purtroppo Made sapeva già Che il colpevole Era suo fratello E questo credo che sia una cosa davvero Che ti distrugge Ma torniamo a noi Il diritto si è consumato tra le 16 e le 20 Del 4 gennaio 2021 All'interno della casa Il civico 22 Di via Casterronco A Bolzano Benno ha poi caricato Nella macchina di famiglia I corpi senza vita dei suoi genitori Per poi per l'appunto Disfarsene nell'Adige Il 27 aprile Dopo ben 4 mesi Di ricerche a vuoto Il fiume Adige Restituisce il corpo di Peter Neumeyer In località Ravina di Trento Più precisamente All'altezza del quartiere Albere di Trento Gli inquirenti non hanno dubbi Che il duplice omicidio Sia stato organizzato e gestito Con estrema lucidità Nonostante ci sia quel TSO In Germania Che mette seri dubbi Sulla sanità di Benno Sottolineiamolo Un TSO non lo si subisce Per una cosuccia da niente Quindi a me pare assurdo Che il ragazzo abbia avuto Una crisi così pesante In Germania Sia poi tornato a casa E non sia più accaduto nulla di grave Altrimenti non mi spiego Perché i suoi genitori E sua sorella Avessero così tanta paura di lui Vi ricordo che si chiudevano in camera Prima di andare a dormire Con tutti i coltelli presenti in casa Quindi dei problemi O dei disagi in Benno Dovrebbero esserci Dovrebbero essere presenti Anche perché Sua sorella Appena prende la triste notizia Torna in Italia Ma non torna a casa con Benno Va a stare da una sua zia materna Il perché Lo ammette anche lei Teme Per la sua incolumità È in effetti stata disposta A una perizia psichiatrica Per il ragazzo Ma è già stato sottoposto A diversi test Come quello del quoziente intellettivo E il test di Rorschach Benno ha detto che Quando si allenava in passato Ha battuto la testa per due volte Gli inquirenti quindi cercheranno di capire Se questo ha influito Su ciò che è accaduto Alla notizia del ritrovamento Del corpo del padre di Benno Il ragazzo dice Nella tragedia Finalmente Una buona notizia Ho vissuto mesi di angoscia Ma ora sì Sono sollevato Sono stati mesi difficili Non capivo come Non fosse stato ancora ritrovato Ora mi auguro Che attraverso l'indagine cadaverica Siano confermate le circostanze Sulle modalità Che ho già espresso Nella tragedia Finalmente Un fattore positivo Nonostante questo In questa vicenda Vi sono ancora dei punti oscuri Da chiarire E infatti Ci sono degli oggetti Mai ritrovati Di cui Benno ha parlato La corda d'arrampicata Ossia la presunta arma del delitto E Dei vestiti Che avrebbe indossato Nel momento del delitto In particolare Gli inquirenti vogliono capire Cosa sia successo Dopo che Benno Si è liberato Dei corpi Dei genitori È andato subito da Martina Ha nascosto l'arma del delitto Oppure L'arma del delitto I pantaloni Li ha nascosti La mattina dopo Quando è uscito Col cane per ore Benno dice di essere andato Sull'altopiano del Renon Inoltre Se ricorderete Benno Ha dato alla sua fiamma Martina Dei vestiti Chiedendole di lavarglieli Dopo essersi fatto una doccia Martina ha consegnato Quegli abiti agli inquirenti Come già vi ho detto E le autorità Hanno detto Che questi abiti Emanavano un forte odore Di detersivo Come se fossero stati lavati Più volte I vestiti infatti Si sono rivelati Totalmente puliti Gli inquirenti Ti sono portati a credere Che Martina Non sapesse Assolutamente Che quegli abiti Erano stati usati Per il delitto Anche perché Benno in realtà Ha ammesso di Aver indossato Altri vestiti Durante quel delitto Ossia Un gilet rosso Di pile E dei pantaloncini A scacchi Il gilet È stato ritrovato Ma non i pantaloni Il 28 maggio Benno Dice Quando ho ucciso mio padre È come se fossi uscito Dalla realtà Sono disperato Fatico a capire Perché ho fatto Ciò che ho fatto So bene che è difficile Veder riconosciuto Alla totale Incapacità Di intendere Di volere E nulla Nemmeno il fortissimo Pentimento che provo Mi risparmierà La pena lunga Che ho appena iniziato A scontare Ma è ora Che si conosca La mia verità Nel pomeriggio Del 4 gennaio Ho avuto una discussione Accesa con mio papà Sono stato svegliato Da lui In maniera energica Abbiamo avuto L'ennesima discussione Per i soliti motivi Mi diceva Che non valevo niente Al contrario di mia sorella Che invece È tutto quello Che un genitore Può desiderare Io soffro Di un disturbo Del sonno Il risveglio Aggressivo Mi rende nervoso Ci sono stati Tanti episodi Anche con Made Mia sorella Quando era adolescente Non ci ho più visto Quando mio padre È entrato in camera Con quella vemenza Ho pereso Un cordino Che aveva portata Di mano In un cestino E con quello L'ho strangolato Dopodiché Mi sono assopito Accanto al suo corpo A svegliarmi È stato il telefono Era mia madre Che mi diceva Che stava rientrando In casa Ho sentito poco dopo Le chiavi nella toppa L'ho vista E quel cordino in mano Ho strangolato Ho strangolato anche lei Senza che nemmeno Facesse in tempo Ad accorgersene È successo tutto In pochi minuti L'avvocato difensore Di Benno Flavio Morcia Sostiene che La mamma È sempre stata Pesantissima Con Benno Molto spigolosa Ed era Una cosa Che andava avanti Da anni Tant'è vero Che appena ha potuto Benno è andata A studiare A Innsbruck In Austria E dei suoi compagni Di università Era l'unico Che non rientrava Mai Durante le vacanze In pratica qui abbiamo Un ragazzo di 30 anni Che ha da anni Rapporti conflittuali Con i suoi genitori E non solo con Peter Suo padre Ma anche con Laura Sua madre Benno In ogni caso Dice di essere pentito Dice addirittura Di essere cambiato E lo fa con queste parole Non faccio più attività fisica Pur avendone la possibilità Qui Leggo molto Soprattutto romanzi Di viaggi Come le avventure Di Robinson Crusoe Niente gialli Come un pendolo Oscillo Alternando momenti Di profonda tristezza Frammenti di vita Normali Con i miei compagni Di cella C'è chi sta bene Tutto sommato Dietro le sbarre Io no Io non sto affatto bene Sono disperato Tutto il clamore mediatico Mi ha dato un gran fastidio L'esercizio che faccio Più spesso È quello di provare A cancellare Dalla memoria Il 4 gennaio Quel giorno Ho avuto un blackout Mai avevo pensato Di uccidere qualcuno Tantomeno i miei genitori Delle ultime novità Emerge che ora Nel caso di Benno Entra in campo La cosiddetta Genetica Del male Che sarebbe una sorta Di predisposizione Neurobiologica Che ovviamente Secondo i difensori Avrebbe impedito a Benno Di sottrarsi alla scelta Di uccidere i suoi genitori In pratica I legali di Benno Del quale si sta Valutando la capacità Di intendere Di volere Tramite una perizia Psichiatrica Disposta dal GIP Hanno anche chiesto Di fare Una ricerca Genetica Col fine di ricercare Il cosiddetto profilo Del gene Del male Benno quindi Non sarebbe stato in grado Di sottrarsi Alla propria Autodistruttività Perché quando nella sua mente Compaiono i vissuti Di una frustrazione Lui non sarebbe in grado Di elaborarli In maniera funzionale In breve È come se Nella testa di Benno Mancasse una sorta di Freno a mano Di emergenza Quando sperimenta Emozioni negative Nonostante ci sia ancora Da fare un processo Trovo che questa tesi Sia altamente improbabile Così come sostiene Peraltro il criminologo Massimo Picozzi L'uomo dice che Nessuno Ma proprio nessuno È programmato Geneticamente E irrimediabilmente Per fare del male agli altri E quando arriva a farlo Sono molteplici Le componenti Che entrano In campo Prima tra queste C'è sicuramente La scelta Di agire in quel modo Per trarne vantaggio Depistare Mentire Adoperarsi In ogni modo Per farla franca E come dice Per l'appunto Massimo Picozzi Nessun gene Ti impone Tali complesse Strategie comportamentali Questo per ora È tutto ciò che si sa Sul caso di Benno Neumeyer Come già vi ho detto Il caso è ancora aperto Deve ancora svolgersi Un processo Però non dobbiamo dimenticare Che Benno È un reo confesso Detto questo Io ho finito di Parlare in questo video Spero tanto che Questo video Possa essere stato Di vostro interesse Fatemi sapere Che cosa ne pensate Di questo caso Fatemi sapere Cosa ne pensate Di Benno Avete seguito Per caso Qualche trasmissione In televisione Oppure sapevate Questo caso Solamente così E in passante Perché l'avevate sentito Magari da qualche parte Al TG O cosa del genere Fatemi sapere Tutto quello che volete Qui sotto nei commenti Io vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo Al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi E continuate a mangiare Le verdure Che continuano a far bene Ciao ragazze Ciao ragazzi Ciao ragazzi